bene guarda sa ed ecco anche Daniele si Daniele buonanotte Gianluvia si a sinistra è meglio lui buona pizza eccolo Mauro davanti abbiamo il capo guardata va bene eccomi si meno male che c'è Pasquale parti Gianlu vai sali sali lui ti sorrivià muovete laggiù vai lui perché pomeriggio piove attenzione alza lo trovo in qualche posto quella qui non te vedo aspetta se rimanere troppo dietro non ci rimanere sui filmini Sara alza la mano sinistra guarda che ha qui il gigante che sta qui sopra 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 no la tua davanti davanti a te metti la mano guarda ecco il gigante grosso ma sto filmino come fa a farlo tutta tre minuti hai forza 26 minuti hai forza 26 minuti c'è una cordata sull'everest ognuno dice ma qual è la via perché vedo ognuno pei cazzi sua qua si al lato capito capito ho ripreso anche la caduta del sasso Gianluca voleva sempre più difficile Luigi è sparito, io non lo vedo più E' bello eh, quando cazzo ti ha fatto soli per andare oggi eh, prima via l'arrampicata Quindi per loro quattro e a mia oltre al corno piccolo giusto, potete sapere che l'ha fatta mai? No io ho fatto l'altra, quella normale con mio padre Invece metto pure io sui video Ho! Ho! benedetta corda che stasera portata da un vai lui che stavano inventate cose nuove stavano a fare questa non è un bene Sì Sarà un colosso questo filmino, si si sta dietro questa cosa. ecco l'uscita del canale vai E' molto solidà come l'intervento. Il rifugio sta lì, dietro. Eh no, tu devi vedere qua. Il grande è di là. Eh? Il grande è di là. Sì, ora si vede, ora riusciamo a poi. Guarda quei tassi là sopra. Sì, ora si vede questa testa. Grazie. Grazie.